Dopo due sconfitte consecutive la nuova Contec ospitava il San Vito Trieste al palazzetto dello sport di Aviano, inizio di gara che sorride alla squadra ospite che inaugura il match con la tripla di Dolcetti, corretti fino in fondo incontenibili a trovare i due punti, parte benissimo San Vito ma allora prova a entrare in partita anche l'Aviano a suon di triple, bomba di Bomben, due in fila per Fabio Pivetta, scatenato il numero 22, realizzerà 19 punti nella sua partita, qui si prende la bomba in transizione, Aviano che riesce quindi a restare in partita ma chiude sotto di 4 lunghezze il primo periodo perché Corretti trova un gran canestro proprio allo scadere del quarto, 17-13 il punteggio in favore del San Vito, Salvador in contropiede seguito dalla tripla di Dolcetti, sembra allungare San Vito ma Aviano troverà un secondo quarto davvero strepitoso, break devastante della squadra di coach Starnoni, tripla per Bomben che fa esplodere il palazzetto, assist di Vielle per Pivetta allunga la squadra di casa che chiude i primi due quarti con questo tap in di Luca Vielle sul 34-27 con l'inerzia della partita completamente a suo favore, infatti Aviano continua a giocare benissimo anche nel terzo quarto, continua soprattutto a segnare da tutte le parti del campo, qui assist dietro la schiena di Bomben per Severino, altri due punti per il numero 5 e chiuderà quota 17 canestro per Corretti nel traffico ma sarà davvero un fuoco di paglia con Pivetta che vola in contropiede dopo il recupero, allunga ancora quindi la squadra di casa, ancora Severino incontenibile, canestro e fallo per il numero 5, Aviano che chiude il match con la bomba di Maki Bomben e con il canestro proprio allo scadere di Davide Crestan che qui va a ricevere, vedete il canestro difficilissimo del numero 13 che alza la parabola, partita in cassaforte 60-44 il punteggio, allora con la forza della disperazione Vielle prova a trovare due bombe consecutive inizio di ultimo periodo senza tuttavia creare grossi problemi alla squadra di casa che chiude il match con questo canestro di Fabio Pivetta e vince, un match meritatissimo. Abbiamo fatto una grande prova corale e ci meritiamo questa vittoria. 75-64 il punteggio in favore dell'Aviano, 19 per Pivetta, 14 per Corretti.